Quali sono gli ordini mendicanti? Quali sono gli ordini mendicanti? I francescani nascono per opporsi alle ormai sempre più evidenti forme di eresia che prendevano il cristianesimo in questa fase di ristrutturazione della società e quindi nascono per riportare l'ortodossia all'interno delle anime dei fedeli. I francescani nascono per combattere lo strapotere della ricchezza, per riportare l'esempio del Cristo, re della povertà, nei confronti di una società che stava diventando una società sempre più interessata ai problemi di carattere economico. Nascono e organizzano, pregano la società dividendola e dividendosi all'interno della città direi quasi in zone di influenza. In ogni città l'insediamento francescano sta all'opposto all'insediamento domenicano, come se dovessero appunto dividersi nella predicazione. Nascono poi altri ordini, gli eremitani di Sant'Agostino, nascono altri ordini di questo genere, ma lo scopo è sempre quello di riportare ad una forma di osservazione e di attuazione del Vangelo nei confronti di una società che sta diventando sempre più interessata a problemi di carattere economico. C'è un problema grandissimo in questa fase, che è il problema dell'usura. È un problema che la Chiesa non riuscirà mai a risolvere, partendo dal presupposto che l'usura è sempre comunque condannabile. Bisognerà aspettare nel 400 Sant'Antonino Vescovo di Firenze, domenicano, che proporrà una soluzione per l'usura. Così come dall'ordine dei Francescani a Perugia nasceranno i Monti di Pietà. Insomma, questi ordini si rifanno alla società nella quale vivono e cercano di indirizzarla verso un mondo in cui lo spirito abbia prevalenza sulla materia.